Non sono molto bravo nel fare queste cose, odio le feste in generale, quindi mi resta veramente molto difficile augurarvi buone feste, comunque ve le auguro molto molto volentieri. Adesso vi spiego perché nutro dell'odio verso le feste. Quando arrivava da bambino a questo periodo dell'anno ero veramente impaziente, ero veramente impaziente, non vedevo l'ora del Natale, non vedevo l'ora del Capodanno, era veramente qualcosa di fantastico, c'era qualcosa di realmente magico nella mia testa in questo periodo dell'anno. Premetto che questo sarà un video abbastanza depressivo, nel senso voglio spiegarvi perché non mi piacciono più le feste, perché non riesco a essere felice in questo periodo dell'anno e niente, voglio raccontarvi un po' di me quest'oggi. Partiamo tutti prevenuti dicendo auguri, buone feste, festeggiamo l'anno nuovo, festeggiamo il Natale che appunto è una cosa legata principalmente alla religione, poi c'è il Natale legato al consumismo, quindi regali eccetera, poi c'è il Natale legato alla religione. Ecco qui, ok, ognuno lo festeggia come meglio crede, credo che ognuno possa festeggiare le feste come preferisce. Da un paio di anni a questa parte sento di non sentire, gioco di parole veramente brutto, lo spirito nitalizio, lo spirito natalizio, lo spirito delle feste. Perché questo? Perché forse quella magia che c'era da bambino non esiste o forse non esiste più. E mi domando, mi viene a domandarmi perché non esiste più, perché non riesco a festeggiare il Natale come un tempo con felicità spensieratezza. Probabilmente la risposta più ovvia è perché si cresce, vengono in mente tanti problemi, vengono in mente tante cose, ogni Natale magari in questo mondo si va sempre a peggiorare, nel senso che per tante famiglie magari il Natale è sempre più magro. Dal mio punto di vista su queste cose non mi lamento, ho sempre festeggiato il Natale con parenti e sinceramente da bambino odiavo andare dai parenti. Mentre da un paio di anni a questa parte mi piace perché comunque una volta l'anno ritrovarsi parlando di cose interessanti con persone diciamo che non vedi tutti i giorni è sempre bello. Quello però che probabilmente mi impedisce di festeggiare al meglio il Natale è appunto la crescita, la crescita di pensiero, la crescita di problemi perché comunque sia inutile nasconderlo. Più si cresce, più i problemi tendono ad aumentare. Ora questo è un discorso molto complesso da affrontare quindi non andrò nello specifico. Però per me le feste, i compleanni, più che una festa sono stati sempre un momento di riflessione, sono sempre stati un momento di riflessione. Spesso e volentieri tutti i brutti pensieri si annidano dentro di me, si annidano dentro di me perché sorgono tante domande, perché non c'è più quella persona, perché adesso è così. E spesso quando siamo con i parenti arrivano anche argomenti molto pesanti, molto pesanti da affrontare. E ora passerò sicuramente da depresso a cronico, non lo so. Lo trovo quasi motivo di tristezza, non so per quale motivo. Io non so per quale motivo da qualche anno non riesco più ad essere felice per le feste. Perché probabilmente mi lascio annientare dai pensieri negativi, mi lascio annientare dai problemi, mi lascio annientare da tantissime cose. Non è sempre facile raga festeggiare queste feste, soprattutto per me. Sicuramente qualcuno di voi si ritroverà in tutto questo. Mi rendo conto di essere stato molto pessimista. Quindi tutti questi pensieri negativi mi portano ad odiare le feste. Le trovo abbastanza squalide e boh. Boh non lo so raga, non vi so spiegare, è veramente un discorso molto incasinato. Volevo fare un discorso serio ma è veramente molto difficile. Tutto questo fa più di roba che vi ho detto, per dirvi cosa. Dal vostro dam, buone feste. Passatele con chi vi ama, passatele con chi realmente vuole il vostro bene. Cosa ne pensate delle feste? Perché vi sentite felici? Perché vi sentite tristi? Perché non vi piacciono? Perché vi piacciono? Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Mi raccomando, ci tengo tantissimo raga, li leggo tutti dal primo all'ultimo. Scrivetemi qua sotto perché vi piacciono, perché non vi piacciono le feste. E scrivetemi soprattutto cosa provate nel periodo natalizio o nelle feste in generale. Dal vostro alieno di fiducia, buone feste del cazzo. Bella raga.